Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Banda di malviventi sperona l'auto dei carabinieri per poi darsi alla fuga tra i campi tre finiscono in manette, ancora in fuga il quarto componente Rubano una borsa ad una cliente in un bar mentre fanno metano denunciata una coppia inchiodata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza Effettuata oggi la ricognizione cadaverica sul corpo dell'operaio morto mentre faceva manutenzione sul tetto di una fabbrica a bellocchi di Fanno Il comune presenta il progetto del secolo 112 km di piste ciclabili per un importo di 19 milioni di euro Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti, tentano di sfuggire all'auto dei carabinieri e la speronano E' successo a Pergola dove tre componenti di una banda sono stati già catturati Il quarto è ancora in fuga Tre dei quattro componenti la banda di ladri che ieri poco dopo le 13 dopo un furto in un'abitazione Nel tentativo di darsi alla fuga hanno speronato a Pergola la gazzella dei carabinieri Intervenuti sul posto sono già in carcere a Villa Fastigi Due arrestati dagli stessi carabinieri che nonostante lo shock per la collisione Con una pronta reazione li hanno bloccati e ammanettati Ed un altro catturato intorno alle 18 di ieri dopo una caccia all'uomo in forze Scattata in pochissimo tempo e che ha visto impegnati 25 uomini e un supporto aereo Un'operazione conclusa sì veramente in maniera positiva Il concerto di tutte quante le componenti che sono state poi coordinate dal comandante della compagnia Ha prodotto questo risultato Più importante e forse anzi non meno importante però rimane la prima segnalazione che è del cittadino E' quella che poi in realtà ha permesso alla pattuglia di intervenire Per cui bene le ricerche e bene l'operazione ma soprattutto se noi riusciamo a ottenere sempre più questi comportamenti positivi da parte dei cittadini Raggiungeremo probabilmente con maggior successo questi risultati Tutta la banda era composta da elementi di etnia rom provenienti dal campo di Zagarolo Ed erano pendolari del crimine Partivano il lunedì per poi rientrare il venerdì Dopo le razzie negli appartamenti compiute in Marche, Emilia Romagna e Umbria A finire in manetta sono stati Durdevice e Manuel, 32 anni, il palo della banda Patussi e Natasha, 44 anni, probabilmente la figlia del capo della banda Con il ruolo di carpire la fiducia delle persone alle quali andavano a suonare E Durdevice e Davor, 66 anni, il fuggitivo, poi acciuffato Ora manca il quarto componente, la batteria, l'autista della Rover 75 Che ha investito l'auto dei carabinieri e che sono finiti in ospedale per le conseguenze riportate Pesanti le accuse al loro carico, furto, rapina impropria e tentato omicidio Il militare interviene senza pensarci, cioè sa che lo deve fare e lo fa con coscienza E si mette in conto forse quello, ma se non lo mettesse in conto Vererebbe in maniera forse meno serena e meno preparata L'esito e la rapidità di tutta l'operazione la si deve anche al prezioso supporto aereo Di un reparto di protezione civile dell'aereoclub di Fano Che ha di fatto con il suo intervento braccato il fuggitivo Questa zona era impervia, il supporto aereo ha fatto sicuramente In collaborazione con il gruppo Cinofili una bel joint venture Quindi è uscito un bel lavoro di squadra Tant'è che abbiamo messo i ladri, li abbiamo messi alle corde E poi l'arma dei carabinieri ha fatto bene il proprio lavoro Quindi complimenti all'arma dei carabinieri E su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni Ha fatto i complimenti all'arma dei carabinieri Al sindaco di Pergola Baldelli Per aver installato le telecamere di sicurezza nel suo paese E ancora cronaca Vedono una borsa incustodita e la rubano E' accaduto nel bar della stazione di Metano a Carrara di Fano La coppia di ladri però è stata incastrata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza Fanno carburante all'auto Prendono un caffè al bar del distributore E visto che ne hanno l'opportunità Rubano anche una borsa lasciata incustodita da una cliente del locale E' andata più o meno così al distributore di Metano a Carrara di Fano Che ha un piccolo bar ricevitoria annesso A farne le spese una 39enne fanese Che si trovava all'interno del locale E che stava conversando con altri clienti del bar E che mai e poi mai avrebbe pensato che la sua borsa lasciata a mezzo metro di distanza Fosse portata via lì sotto gli occhi di tanta gente Ma così non è stato Ad impossessarsi della borsa con soldi, occhiali e documenti E' stata una coppia Lui 34 anni, di origini pugliesi Già noto alle forze dell'ordine E lei 24enne del posto Che materialmente porta via Come si vede dalle immagini della telecamera La borsa della ignara signora E sono proprio le immagini della videosorveglianza A consentire agli agenti del commissariato di Fano Coordinati dal dirigente Stefano Seretti A risalire ai due e perquisire così la loro abitazione Dove ad incastrarli sono stati il ritrovamento dei documenti della 39enne E i suoi occhiali Oltre ad alcune dosi di cocaina ed hashish Per uso personale I due sono stati così denunciati a piede libero Per furto aggravato E segnalati in prefettura per l'uso di stupefacenti Ma i controlli sul territorio Hanno consentito agli uomini delle volanti di Fano Di arrestare, nei giorni scorsi Altri due soggetti Che dovevano scontare pene detentive Otto mesi ad un 39enne fanese Per reati ambientali Che sconterà nel carcere di Villa Fastigi E sette mesi Sempre ad un fanese di 58 anni Per reati legati agli stupefacenti Che è stato posto agli arresti domiciliari La tragedia di Morris Furlani L'operaio 41enne di Fano Che ieri è morto in un tragico incidente Sul lavoro a Bellocchi di Fano Ancora da stabilire la data del funerale L'uomo, dipendente dell'azienda Profilglas Stava facendo manutenzione sul tetto di un capannone Quando improvvisamente il soffitto ha ceduto E l'operaio precipitato sotto Finendo su un macchinario dopo un volo di 12 metri Oggi è stata effettuata una ispezione cadaverica Mentre si attende il nulla osta della procura di Pesaro Morris Furlani non era sposato E viveva con i genitori Due fratelli ed una sorella Stanno meglio i due operai Rimasti feriti nel crollo del ponte dell'A14 Tra Ancona Sud e Loreto Nel quale sono morte due persone Intanto proseguono le indagini della magistratura Per individuare le responsabilità e i responsabili del disastro Sono stati dimessi entrambi nel pomeriggio di oggi Dall'osservazione del pronto soccorso dell'ospedale di Torrette di Ancona I due operai romeni dipendenti della De La Bec rimasti feriti ieri Mentre eseguivano lavori di manutenzione sul ponte dell'A14 Crollato all'improvviso Il più grave dei tre Il 47enne di Frascati Ha avuto una prognosi di 30 giorni Salvo complicazioni Per una frattura multipla alla falange della mano sinistra Mentre ne avrà per 10 giorni L'altro operaio ricoverato al Torrette di Ancona Per i postumi del trauma cranico commotivo e per la contusione di una spalla L'autostrada altresì è stata riaperta completamente al traffico Questa mattina, poco dopo le 8 Anche in direzione Pescara Nel tratto tra Ancona Sud e Loreto Sulle cause che hanno provocato il crollo Indaga la magistratura di Ancona Che ha aperto un'indagine Anche se al momento non risultano indagati Tutta la documentazione è in mano alla polizia giudiziaria E stanno continuando i sequestri Il ponte dai primi rilevamenti Si sarebbe inclinato da un lato Per cause ancora da chiarire Per poi abbattersi al suolo Con uno scivolamento dal lato opposto Secondo una ricostruzione da parte della polizia stradale È possibile che il troncone ceduto Non poggiasse perfettamente per l'intera lunghezza O che poggiasse solo parzialmente da una parte e poco dall'altra Impotesi ancora tutte da chiarire Sta di fatto che i sostegni provvisori Non presentano danni E dovrebbero essere celebrati lunedì pomeriggio I funerali di Emilio Diomede di 60 anni E Antonella Viviani di 54 I coniugi morti nella loro Nissan Che si è andata appunto a schiantare contro il ponte Crollato sull'autostrada A14 Adesso cambiamo pagina La promozione turistica passa anche attraverso La comunicazione sui social network Ma perché questa sia efficace Occorre che sia realizzata Sia fatta da persone esperte Per questo in Comune Questa mattina è stato siglato Un accordo con una società specializzata Noi abbiamo in questi due anni e mezzo di attività Fatto una buona manutenzione dei siti del Comune di Fano Va messo ordine però E va fatto un salto di qualità Anche facendo tesoro della prima tappa del turismo Con EIAR che ci ha consigliato appunto Di strutturarci Di fare community E quindi abbiamo proprio in queste ore Firmato una convenzione Con social media team Di Regione Marche Che è diciamo L'azienda leader in questo settore Per le marche Non a caso la nostra regione È la regione più social di Italia Con grandi risultati Per cui la consulenza Servirà a un lato A informare un po' tutti gli operatori di Fano Su come si fa web marketing Perché è utile e indolore Nel senso che piuttosto che fare una cosa Se ne fa un'altra Con risultati assolutamente più convincenti Due, vedere appunto Gli strumenti che il Comune di Fano Può dotarsi per posizionarsi Nelle primi posti Di Google, Instagram, Facebook O via dicendo Altrimenti non si esiste sostanzialmente Tre, un'attività di formazione Dello staff del Comune di Fano Che dovrà essere indipendente Dopo questo periodo di formazione Cioè un comitato di redazione Che quotidianamente E con qualità Sappia aggiornare Questi siti Perché i siti vanno aggiornati quotidianamente Il tutto Nell'obiettivo ovviamente Di far crescere Il mercato del turismo La visibilità Degli operatori nostri Sapendo anche Che ci sono 20 milioni di turisti Che premieranno L'Italia in futuro E bisogna che anche noi Ci stiamo Nell'intercettazione Di questi flussi No ai contributi A pioggia Da parte del Comune di Fano Ad associazioni ed enti Lo chiedono i 5 Stelle Che invocano chiarezza E rispetto delle regole Premettiamo che Noi siamo assolutamente favorevoli Ai contributi ordinari E straordinari Alle nostre associazioni Che sono anche la linfa A volte della vita stessa Della città Però vorremmo che Almeno il regolamento Che regola appunto Questi contributi Sia rispettato Dalla stessa giunta Che oltretutto Ha anche approvato Questo regolamento Purtroppo A fine anno 2015 O 2016 Proprio nelle ultime settimane Sono stati erogati Circa 200 mila euro Di contributi straordinari Che non rispettano Quasi nessuno Praticamente I requisiti Di questo regolamento Parliamo appunto Di queste cifre Che sono veramente alte E soprattutto Parliamo di Una modalità Della giunta Che praticamente Non rispetta Quello che è Questa stessa Ha approvato Per questo Noi segnaleremo Questo sicuramente Alle autorità proposte Con un esposto Anche perché Dobbiamo praticamente Capire se Questo è frutto Di un'incompetenza Stessa della giunta Che appunto Ignora Gli stessi regolamenti Che ha fatto E quindi causando Comunque un danno Erariale Alle casse del comune O se questo sia Diciamo Un'azione Con dolo Tre virgolette Quindi si configura Con un abuso Di ufficio Perché a questo punto Probabilmente A fine anno Visto che ci sono Dei residui Di cassa Per il comune Probabilmente Qualcuno Della giunta O chi per lui Ha chiamato In modo del tutto Discriminatorio Alcune associazioni Facendole Invitandole A presentare Queste domande Di contributi Che però Non sono assolutamente Regolari Ecco Noi pensiamo Che le nostre associazioni Abbiano diritto Invece Ad essere trattate Tutte nella stessa maniera E non sia degno Appunto Per il loro impegno Che mettono Anche per la vita Della nostra città Che vengono trattate Così Noi andremo avanti Segnalando tutte queste cose All'autorità proposte Perché è giusto Che chi sbagli Paga E in questo caso Sicuramente La giunta I dirigenti Eventualmente Coinvolti Dovranno appunto Assumersi Le responsabilità Di fronte Alla vita Delle associazioni Fanesi E rispondere Ai 5 stelle C'è il Sindaco di Fano Massimo Seri Qui con noi In studio Buonasera Sindaco Dunque parole pesanti Esposto Abuso di ufficio Insomma Una bella patata bollente Sì Non è patata bollente Non mi sorprende neanche Perché questo è il metodo Di chi non ha argomenti Io comprendo Che adesso fare opposizione E criticare il sindaco E la giunta È difficile Perché stiamo Facendo tantissimi Di interventi Investimenti In questa città Che non si vedevano Da decenni Tornando all'argomento Qui parliamo Di contributi Ad associazioni Si parla di cifre Importanti In due annualità Ma in realtà Parliamo anche Di progetti Significativi Tra questi Perché non vengono citati Qui si lancia il sasso Si nasconde La mano Parliamo di associazioni Che operano In un regime Di sussidiarietà Con l'amministrazione Facendo anche Dei servizi In aiuto Alle attività Dell'amministrazione Mi viene in mente Per esempio 60 mila euro Per Ittaca Per l'associazione Anfas Dove c'era un progetto Un rischio Di dover interrompere Un servizio Dove c'è stato Un lavoro di mesi Per arrivare A questo contributo Ci sono contributi Per la fondazione Teatro Quindi parliamo Di cose nostre Che non eravamo In grado Di affidare Prima Di cosa parliamo Parliamo Di contributi Per associazioni Che non siamo in grado Il contributo Per il teatro Da quanto più o meno Seggira Adesso vado A memoria Sui 37 mila euro Non sbaglio Poi gli altri Che dicono I grillini A pioggia A pioggia Sono alcuni contributi Da mila euro Due mila euro Cinquecento euro E sono A quelle associazioni Che hanno delle difficoltà Che fanno degli eventi Che nell'arco dell'anno Non siamo in grado Di garantirli Ovviamente cosa facciamo Attendiamo La fine dell'anno Dove abbiamo Delle economie A cominciare Dal fondo di riserva Che se non per fortuna Non ci sono Eventi straordinari Come nevicate Esondazioni Non li utilizziamo Riusciamo A derogarli Può capitare Per carità Regolamenti Che in alcune situazioni Si parla Qui parliamo Di persone Che fanno volontariato Che magari Si ritrovano Arrivano a fine anno Dice Ma la domanda L'avete fatta Magari si è notato Allora arriva All'ultimo momento Ma poi parliamo Di un caso O due Allora io di queste cose Sono orgoglioso Poi per carità La perfezione Non c'è mai Però ecco Mi sorprende Che si facciano Queste denunce Non si ha il coraggio Di fare anche l'elenco Di tutte le associazioni Perché poi Bisogna anche parlarci E capire Ma chi Non ha la responsabilità Di dover Trovare le soluzioni Queste cose Non le comprende Quindi rigetto Al mittente Queste cose Perché ripeto Sono convinto Che fanno questo Perché purtroppo Per fortuna Per i fanesi C'è un sindaco Che è operativo Ha impiegato Un annetto Per smuoversi Ma io sono Un maratoneta Quindi vado Per le lunghe distanze Stiamo dando risposta A tutte le questioni Tutte le problematiche Della città Ok Allora Andiamo avanti Con il giornale Il Comune Ha presentato Un progetto Di piste ciclabili Che si è realizzato Nei prossimi anni Farà diventare Fano La città Della bicicletta Con buona pace Per Pesero Probabilmente Il progetto È di quelli Che possono cambiare Il volto E non solo Di una città 112 chilometri Di piste ciclabili Per una spesa Di 19 milioni di euro Ed una ragnatela Di ciclovie Che mette in comunicazione I quartieri I quartieri Con il centro E il centro Con il mare Le tre zone fulcro Della città Certo Un progetto Di queste dimensioni Ha bisogno Di tempo e risorse Oltre che di pianificazione E concertazione Con gli altri comparti Dell'amministrazione Coinvolti nel piano Strategico di Fano Un piano Sulla mobilità urbana Ed in particolare Con le piste ciclabili A Fano mancava E questa amministrazione Vuole fortemente Un segnale Ben preciso A riguardo È giunto Nel recente Piano di asfaltature Dove abbiamo visto Che oltre a crearne Di nuove Quelle esistenti Sono state potenziate E meglio evidenziate Una realizzazione Così dettagliata Non si può realizzare In poco tempo Ma faremo Una programmazione Negli anni Stiamo già lavorando Su risorse aggiuntive Abbiamo partecipato A dei bandi Alcuni già finanziati Per alcuni tratti Di piste ciclabili Parteciperemo Ai nuovi bandi Regionali E poi Come dicevo Interverremo anche Direttamente Annualmente Su alcuni tratti Una rete ciclabile Così estesa E strutturata Ha ricadute positive Sicuramente Sul piano socio-sanitario Con un abbassamento drastico Delle emissioni E delle polveri sottili Migliorando la salubrità Dell'aria che respiriamo Ricadute positive Anche sul piano turistico Perché in questo modo Si migliora L'appettibilità Di cicloamatori E cicloturisti Per la città Che rappresentano La nuova frontiera Del turismo green Dei nostri giorni Si parte per ora Con il completamento Della Fano Fenile Con il pezzetto mancante Sotto il cavalcavia E la pianificazione Del prossimo obiettivo La Fano Marotta Senigallia Che rappresenta Il prossimo step Ed è tutto Grazie per aver seguito Occhio alla notizia A voi tutti L'augurio Di una buona serata Arrivederci Grazie per aver guardato